Buongiorno, stamattina mi sono fatta questa tisana qui fredda, papaya e arancia, adesso mi faccio il caffè sono le 10 come potete vedere ci tenevo a farvi vedere dal vivo anche, guardate le mie piantine, allora questa qui, cioè questo è veramente stupendo questo avocado ed è stato quello lì che avevo piantato nel terreno a caso che poi è spuntato all'improvviso dopo due mesi, cioè incredibile, guardate com'è grande questo invece è stato quello che ho fatto, beh anche questo l'ho fatto durante il lockdown, questo anche e quest'altro anche è stato uno dei primi del lockdown che però in realtà è rispuntato perché pensavo fosse morta del tutto ma c'era questo tronco principale che ormai stava diventando nero, però alla fine vedete sono cresciuti altri ramoscellini e niente questo è il mio basilico bellissimo, qua ci sono altre piantine, ormai di qua sotto è solo piante vabbè e ci sono anche qui ovviamente le piantine qua di solito, adesso non ci spunteranno più, però di solito ci spuntavano i fiori, oddio come si chiamavano? di luna di miele, una cosa del genere mi piace mi piace mi piace mi piace sto cercando di finire tutti questi prodotti qua, prima di fare le mie maschere fatte in casa perché in realtà il materiale ce l'ho e stamattina mi tocca un po' di skin care perché vi giuro ho una pelle, anche se magari non sembra dalla videocamera ma è disastrata è piena di puntini che secondo me, non so, penso sia colpa anche della maschellina perché li ho tipo tutti concentrati qua e poi per il sudore qua sulla fronte, i lati, non possiamo perdere poi mi faccio anche la maschera ai capelli, così poi dopo sono pronta per farmi la doccia e maschera utilizzo questo qui praticamente che mi aveva preso mia mamma un po' di tempo fa cioè in realtà l'aveva preso anche per lei ma alla fine non lo usa quindi onde evitare di buttarla, a caso lo devo usare io per forza poi forse non ve l'ho detto ma a breve devo, cioè taglierò un po' i capelli e rifarò il colore e tra parentesi ho deciso che rifaccio il colore, quello di, cioè tipo il balayage ah, un'altra cosa che vi volevo dire, non so se mi seguite appunto su Instagram però vi ho parlato di questo prodotto qua praticamente un po' di tempo fa da questa pone regalavano questa sponge in conja, cognac chiamatela come volete voi, per il viso che è appunto una spugnetta naturale, bisogna dare al 100% e io in realtà ero giù al mare da Marco quando appunto a mia mamma gliel'hanno regalata e l'altro giorno ci è ritornata e gliene hanno regalate due quindi questa qui è quella che aprirò e sarà la mia praticamente ma erano dei campioni gratuiti, dei provenzali a quanto pare adesso non li fanno più però da quello che mi hanno detto, perché io in realtà adoro acqua e sapone perché trovo sempre qualcosa poi da comprare ma vabbè alla fine ho deciso appunto di aprirla e di iniziare ad utilizzarla in realtà sono un po' indecisa nel senso che sapete che io per pulire il viso ormai utilizzo sempre questo qui che è il Simil Foreo ed è del marchio San May preso su Amazon in realtà mi trovo bene sono veramente mesi dall'anno scorso che ce l'ho e lo uso ne ho addirittura due cioè nel senso ne ho uno qua che utilizzo a casa e l'altro ce l'ho su da Marco che in realtà a volte lo utilizza anche lui insomma però secondo me questo è un ottimo compromesso ve lo faccio rivedere qua è duro poi nel momento in cui lo bagnate diventa morbidissimo ed è super... cioè proprio fa una leggera esfoliazione sul viso e secondo me è tipo da portare in viaggio è top farò poi una skin... cioè un video skin care a parte e quindi... e quindi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono molto soddisfatta perché comunque devo dire che da quando anche sono tornata, ma anche quando ero giù da Marco, cioè è vero, a volte mi abbuffavo e tutto. Però sono sempre stata contenuta di questo, cioè sono super pro. Invece in Luria per esempio, cioè io odoro la focaccia, quindi lì proprio focaccia go go. Però insomma non mi sembra di essere messa male, ecco. Allora, ormai sono le 6 e meno un quarto, quindi io fra un po' praticamente devo mangiare e andarmene perché per almeno le 7 e 25 devo essere lì. Vabbè, tralasciamo questa cosa perché attacco alle 8. Quindi in realtà io adesso vado, vi porto la videocamera, però appunto ci rivediamo poi domani mattina perché il tempo di mangiare qualcosa mi preparo e vado. Insomma, avrei voluto dormire ma non ce l'ho fatta e vediamo quanto reggo stanotte. Secondo me non reggerò niente. O forse sarà così agitata che reggerò. Adesso comunque dai, c'ho un quarto d'ora per riposare, infatti chiudo tutto e chiudo gli occhi. Mi metto la sveglia tipo per le 6 e un quarto, insomma. Così, no, faccio anche un po' di più, mi faccio 30 minuti, dai. Ragazzi, volevo concludere questo vlog. Allora, io sono totalmente sparita e non mi ricordo nemmeno più l'ultimo pezzo di vlog che ho fatto. Oggi è praticamente domenica 30. E niente, io, cioè alla fine della fiera, oggi ho passato il tempo a scrivere la tesi, a dormire, a mangiare. Cioè, questa è la mia vita in questo momento. E vabbè, pazienza. Comunque sia, ci tenevo insomma a concluderlo un minimo. E comunque mi avete tenuto compagnia, insomma. Mi sono anche tenuta compagnia registrando sto vlog. E nei momenti più, un po' più così smortini, diciamo. Volevo dirvi una novità. Se riesco, se riesco, vi dico sempre se riesco, mi piacerebbe pubblicare un video a settimana. È la prima settimana di settembre, il 5, ritorno a su Marco. Quindi penso che comunque vloggerò, perché in realtà questa settimana che viene ho 4 turni di fila. E poi col fatto che ho la doppia notte, smonto, riposo, riposo. Comunque nel weekend, diciamo così, sabato, domenica e lunedì sono a casa. Perciò potrei anche vloggare, insomma. Però adesso vediamo. E niente, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. E noi ci vediamo al prossimo. Tschüss.